Le donne italiane hanno bisogno di attenzione, le donne italiane hanno bisogno di ascolto per raccontare, sì, la violenza subita, ma anche per raccontare le storie di riscatto, per mostrare la loro forza, perché ci vuole coraggio e voi il coraggio ce l'avete, siete qui oggi per dirlo al Paese. La metà delle donne che vengono uccise sul pianeta sono uccise per femminicidio, cioè sono uccise in quanto donne e per mano di chi le dovrebbe amare, la metà delle donne. Ma voi vi rendete conto di che cosa stiamo parlando? E in Italia, che succede in Italia? In Italia ne viene uccisa una ogni due giorni e mezzi, lo dice l'Istat ed è un dato spaventoso, assolutamente spaventoso. Ogni due giorni e mezzo una nostra concittadina viene uccisa per mano di chi dovrebbe amarla. Ma vedete, sbaglia, sbaglia chi pensa che la violenza sia una questione che riguarda esclusivamente le donne. No, 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 riguarda il Paese e sfregia tutta la nostra comunità. Questo fa la violenza, non è una questione di donne, è una questione che riguarda tutto il Paese. La violenza contro le donne è una violazione dei diritti umani. Vi rendete conto del salto che abbiamo fatto? Non è una cosa che si risolve in casa, in silenzio. È una violazione dei diritti umani, non una faccenda privata.